Buonasera, benvenuti e benvenuti a TFFDoc, italiana doc, concorso dedicato al documentario italiano. Adesso io sarò finto di sbagliare i nomi della mia specialità con Demetrio, che non c'è zitto mai. E' con estremo piacere che accogliamo questa sera Demetrio Giacomelli, che vinse due anni fa a questa competizione con Iorama, a presentare su un nuovo film, un nuovo raccoglitore, con lui c'è Hermes Mandina. Sono i due doppelganger del film, Demetrio Giacomelli. Grazie, prima di tutto voglio ringraziare tutte le persone che sono venute a vedere questo film e le persone dell'organizzazione del Torino Film Festival. Un grande ringraziamento, devo dire, ai tecnici che si sono occupati, hanno fatto sì che questo film, pur essendo autoprodotto e quindi non avendo, diciamo, i fondi, i soldi per ricarsi a un laboratorio, diciamo, si sono presi cura di questo film, hanno fatto sì che voi tutti siate pavedevi. E' un film che ho fatto, che ho realizzato per farmi compagnia. E' quale migliore compagnia che fare un film su un amico, su un amico di una vita, perché è Hermes. E' qui, spero che faccia compagnia anche voi. Ci vediamo molto e stiamo a parlare con me.